Ha avuto luogo nell'aula consigliare della provincia d'Imperia la premiazione del terzo concorso internazionale di poesie organizzato dal Circolo Parasio, col patrocinio del Comune d'Imperia, la provincia d'Imperia, il Ministero della Cultura argentina, la Scuola di Musica Lucchino Belmonte e una serie di partecipanti veramente notevoli per la terza edizione. Infatti hanno partecipato 104 poeti provenienti da tutta Italia, una trentina stranieri che avevano una corsia diversa, non partecipavano direttamente al concorso ma producevano delle loro opere e precisamente poeti spagnoli, argentini, russi, bielorussi, tedeschi. È stata una edizione, la terza edizione, perfettamente riuscita anche perché grazie a degli amici siamo riusciti in modo particolare a Dante a creare una giuria veramente di grande livello, preseduta da Nina Di Stefano, parente di Quasimodo, milanese, che ha assunto l'impegno non solo di averci aiutato quest'anno ma di darci una mano per far sì che questo premio possa diventare un premio veramente di spessore, un premio valido ad ogni livello. Sono onorato di scrivere il mio nome nell'albo d'oro di questo premio, un evento che arricchisce la comunità imperiese e il premio è stato organizzato benissimo, una giuria di alto profilo lo impreziosisce e lo convalida oltre ogni dire. È stata una grande soddisfazione questo concorso che ha visto le migliori penne dell'Italia dal punto di vista poetico e grande risultato, i primi classificati sono veramente tra i migliori poeti italiani. Ho molto lietamente accettato l'invito dell'amico Maurizio Dante a far parte dei lavori di giuria di questo concorso. Sono stati dei lavori di giuria, devo dire la verità, non estremamente lunghi né estremamente difficili perché quando ci si imbatte nella qualità è molto semplice, ritengo, paradossalmente riconoscerla. Ne parlavamo prima e ho più volte detto e più volte dico nel concorso di poesia che dirigo a Vietri sul mare in provincia di Salerno e presso gli altri concorsi dove mi chiamano come giurato, lo dico spesso, riconoscere la poesia è semplice, è molto semplice perché la poesia non è quella che parla per sé o per me o per te ma è quella che parla con tutti ma non è questo il punto, il punto della poesia è quella che parla per tutti. Vengo da Milano anche se origini del sud, sono arrivato quarto, eseguo il concorso e ho appreso questa sera di essere uno dei più giovani quindi per me questo è un motivo di grande orgoglio e onore essere accostato a personalità tanto importanti nel panorama poetico italiano e ringrazio gli organizzatori del premio di avermi concesso questa opportunità e il piacere di essere venuto qui e scoprire anche un luogo diverso che non avrei mai altrimenti visto. Ho particolare piacere di essere stato insignito della menzione d'onore per il concorso di poesia Parasio in quanto residente al Parasio stesso e per questo ho il dovere di ringraziare la giuria tutta, il circolo Parasio e chi ha permesso di realizzare questa iniziativa che dal mio punto di vista potrà solo crescere nel corso degli anni e dare un lustro nuovo, diverso a questa terra che è piena di tanta bellezza e che secondo me ha anche tanto da dare sotto il profilo culturale.